Noi abbiamo fatto una scelta diversa. Quel governo per il quale noi abbiamo scelto di far nascere un nuovo movimento politico con tutte e due le gambe e con la testa nel centro-destra, quel governo presieduto da Enrico Letta oggi viene fatto cadere e la sua esperienza viene conclusa in esito ad uno scontro interno al Partito Democratico e in esito ad una evoluzione della leadership del Partito Democratico. È arrivato un nuovo segretario del PD e di fatto stasera cade il governo a guida del Partito Democratico. Io mi sento in pieno dovere di coscienza non solo nei confronti del movimento politico che abbiamo fondato ma anche e direi soprattutto nei confronti degli italiani di spendere nei confronti di questa esperienza di governo più parole e parole, permettetemi, più generose di quelle che ho sentito alla direzione del Partito Democratico. Permettetemi dunque di dire che questo governo presieduto da un esponente come Enrico Letta, un esponente del PD come Enrico Letta avrebbe meritato di ricevere parole più generose da parte del Partito Democratico. Detto questo mi permetto di sottolineare per flash alcuni risultati.